Musica Ciao e bentornati a Crochet Comments Io sono Lisa e oggi andiamo a realizzare insieme un bollerino molto facile ma di grande effetto Come vedete utilizzeremo il filato Drops Loves You numero 7 Unicolor che è un classico cottone non mercerizzato e qua abbiamo l'indicazione che è da utilizzare con un uncinetto da 3,5 mm Noi invece utilizzeremo un uncinetto da 3 mm 50 grammi fanno circa 170 metri quindi se volete usare un altro filato orientatevi con questa misura Poi io vi dico anche le indicazioni per misurare il lavoro e per fare il bollerino in tutte le taglie che volete voi Allora adesso vi faccio vedere un po' i miei schizzi per farvi capire come dovete calcolare le taglie Andremo a realizzare il bollerino Partendo dal centro quindi partiamo da qui andiamo a lavorare un pezzo dritto E poi andiamo a fare delle diminuzioni per le maniche E questo solo per metà del bollerino Poi andremo ad agganciarci al centro e andremo a realizzare l'altra metà del bollerino Come vedete qua ho indicato già il numero di centimetri che servono per le varie taglie Per esempio per la taglia SM abbiamo bisogno di una larghezza di 39 cm Per la taglia LXL abbiamo bisogno di 47 cm in larghezza E per la taglia XXL a XXXL ci servono 54 cm in larghezza Quindi questa è la prima misura che ci serve Poi per sapere quale taglia dovete utilizzare voi andate a misurare il vostro busto Qua c'è indicato circa la SM Ha un busto da 84 a 94 cm La LXL da 110 cm circa La XXL a XXXL 120 a 130 cm circa Quindi andate a misurare e scegliete la taglia più adatta a voi E andiamo a vedere cosa dobbiamo fare Allora sul gomitolo c'è indicato che il campione di maglia Dovrebbe fare 23 maglie su 30 righe Però questo è un campione fatto ai ferri Siccome noi andiamo a lavorare ad uncinetto Ho realizzato un campione ad uncinetto Semplicemente lavorando delle maglie alte Quindi ho avviato 24 maglie alte E ho lavorato delle righe fino a quando avevo poco più di 10 cm di altezza Dopodiché sono andato a misurare il mio campione Nel quadretto dei 10 cm Per andare a vedere quante maglie mi stanno dentro i 10 cm Sia in larghezza e quante righe si sviluppano su 10 cm in altezza Il risultato mio personale è che lavorando con l'uncinetto da 3 mm Ottengo 19 maglie alte per 11 righe Su un quadrato di 10 x 10 cm Quindi anche voi io vi invito a fare il vostro campione Specialmente se utilizzate un altro filato Così potete poi fare il calcolo delle maglie da avviare Vediamo adesso come fare il calcolo Quindi per esempio Ok Quindi su 10 cm ho 19 maglie Adesso vedo qua che io ho bisogno per fare una taglia SM 39 cm Quindi quante maglie devo fare Per arrivare ad una larghezza di 39 cm Diciamo che 39 sono quasi 40 Quindi per semplificare il calcolo Ho fatto 4 x 19 e fa 76 Questo è il numero di maglie necessarie Che io devo avviare per iniziare a lavorare una taglia SM Quindi 76 catenelle Più le eventuali catenelle da voltare il lavoro Adesso vi spiederò ovviamente quando iniziamo a lavorare il nostro bolerino Se invece volessi fare una taglia LXL Mi servono 47 cm Quindi sono circa 50 Quindi 50 Quindi devo fare 5 x 19 E mi fa 95 Ora siccome il punto che andiamo a realizzare È un multiplo di 4 Più due laterali Ho cercato il parente più vicino ai 95 Che sia divisibile fra 4 Ed è 92 Questo perché il punto che andremo a realizzare è un multiplo di 4 Quindi mi segno intanto i 92 Per la taglia LXL 92 catenelle Invece per la taglia XXL e XXXL Ci servono 54 cm Quindi è di nuovo un multiplo di 5 Perché il 6 e il 60 sono troppo distanti Quindi diciamo 5 x 19 fa di nuovo 95 Però certamente devo avviare un numero più grande Perché ho 54 cm E non 50 pari Quindi ho arrotondato aggiungendo le maglie Avendo poi 100 Sempre ovviamente un numero divisibile fra 4 Perché il punto che andiamo ad utilizzare è un multiplo di 4 Quindi iniziamo ad avviare le nostre catenelle Io andrò a realizzare una taglia SM E come vi ho detto prima Mi servono 76 catenelle per iniziare Per avere un multiplo di 4 ovviamente Il punto è un multiplo di 4 Però dobbiamo aggiungere alla fine Altre due catenelle di base Quindi faccio 76 più 2 E mi fa 78 Se ad esempio volete fare la taglia LXL Ho detto che ci vogliono 92 catenelle Sempre se avete la stessa mano come me 92 catenelle più 2 Quindi farete 94 Mentre per la taglia XXL A tripla XL Dovete avviare 100 maglie più 2 Quindi 102 maglie Così avrete un multiplo di 4 più 2 Avviate le vostre catenelle E poi ci vediamo per la prima riga Una volta che avete realizzato il numero di catenelle necessarie per lavorare il vostro bolerino Possiamo iniziare a fare la prima riga Quindi andiamo a fare intanto altre due catenelle aggiuntive Questi ci servono per fare la prima svolta Quindi avete fatto altre due catenelle aggiuntive E poi entrate nella terza catenella dall'uncinetto 1,2,3 E fate una maglia alta Poi andiamo a fare il motivo Andiamo a fare Sopra i prossimi 3 catenelle 3 maglie alte Quindi la prima maglia alta che abbiamo lavorato è solo di bordo Adesso facciamo il motivo 3 maglie alte 1,2,3 Una maglia alta sopra ogni catenella praticamente Quando abbiamo fatto queste 3 maglie alte Torniamo nella prima delle 3 E lavoriamo una maglia alta Come si fa? Filo sull'uncinetto Torniamo quindi su questa base Della prima di questo gruppo di 3 maglie alte Entriamo nella base Prendiamo sul filo E lo allunghiamo Ok? Poi prendete il filo Passate attraverso due E passate attraverso due E si forma questa specie di X Ecco, lo zoom era un po' eccessivo Adesso ripetiamo questo per tutta la riga Però dobbiamo saltare la prossima catenella Quindi questa catenella la saltiamo Perché abbiamo fatto questo punto praticamente Quindi saltiamo questa E poi facciamo 3 maglie alte Una Una Due E 3 Non l'ho presa tanto bene Scusate che la riprendo Eccola La terza Ok 3 maglie alte E facciamo di nuovo il nostro incrocio Quindi filo sull'uncinetto Torniamo nella prima di queste 3 Entriamo proprio nuovamente nella catenella di base Ecco Ci prendiamo il filo Torniamo davanti Allunghiamo la maglia E lavoriamo la nostra maglia alta Quindi Attraverso due E attraverso due E abbiamo fatto il secondo incrocio Saltiamo la prossima catenella E poi ripetiamo 3 maglie alte 1 2 3 Poi facciamo l'incrocio Filo sull'uncinetto Torniamo nella prima delle 3 maglie alte Prendiamo su il filo Allunghiamo bene Prendiamo il filo Passiamo attraverso due Prendiamo il filo Passiamo attraverso due La prossima catenella va saltata Ora ripetete questo motivo Fino a quando arrivate alla fine di tutte le catenelle Quando arrivate alla fine della riga In teoria vi rimangono due catenelle libere Ora Una la dobbiamo saltare Perché abbiamo appena fatto il punto di incrocio Quindi saltiamo come d'abitudine E nell'ultima lavoriamo semplicemente una maglia alta E così completiamo la prima riga Il mio punto è strettissimo Vediamo se riesco A passare Eccola qua Sono riuscita Quindi ho concluso la prima riga con una maglia alta Adesso dobbiamo fare la riga numero 2 E la riga numero 2 verrà ripetuto per tutto il lavoro Quindi vediamo come fare Due catenelle Voltiamo il lavoro E lavoriamo subito nel primo punto Una maglia alta E poi facciamo di nuovo il gruppo di tre maglie alte Quindi entriamo nella prossima maglia E lavoriamo una maglia alta La seconda sopra la maglia alta successiva E la terza sopra la maglia alta successiva Quindi abbiamo fatto tre maglie alte Filo sull'uncinetto Torniamo nella prima maglia alta E facciamo la nostra maglia alta d'incrocio Saltiamo la prossima maglia alta E lavoriamo tre maglia alta E lavoriamo tre maglie alte Uno Due Tre Una maglia alta d'incrocio Quindi torniamo nella prima delle tre E facciamo una maglia alta Saltiamo la successiva maglia alta E ripetiamo adesso per tutto il giro Tre maglie alte Una maglia alta d'incrocio Entrando nella prima delle tre E saltiamo la prossima maglia alta Ripetete questo fino alla fine della riga Alla fine della riga ci ritroviamo con Una maglia alta che dobbiamo saltare E poi c'è una maglia alta E le due catenelle che abbiamo fatto all'inizio della riga Quindi saltiamo questa maglia alta E lavoriamo una maglia alta Sopra la maglia alta E con questo abbiamo concluso la riga numero due Le catenelle li ignoriamo Adesso facciamo due catenelle Voltiamo il lavoro E ripetiamo la riga numero due Quindi vi voglio rifare Vedere solo l'inizio Per essere certa di averlo spiegato bene Quindi ho fatto due catenelle Ho voltato il lavoro Entro nella prima maglia alta E lavoro una maglia alta Dopodiché Lavoro subito le mie tre maglia alte Uno Due E tre E faccio il mio punto di incrocio Quindi torno nella prima delle tre E lavoro una maglia alta Incrociata davanti Salto il prossimo punto E inizio a lavorare il prossimo gruppo Di tre maglia alta E così via E vedrete che adesso non si vede ancora tanto Perché abbiamo fatto poche righe Vedrete che si formerà Un disegno in diagonale A zig zag Sopra ogni motivo Molto bello Anche se stiamo lavorando su una sola riga Praticamente ripeteremo adesso Sempre la riga numero due Però otterremo un effetto davvero molto bello E molto interessante Quindi continuate a lavorare questa riga Poi vi faccio vedere ancora per ultima volta Come finire la riga E per poi ricominciare la prossima riga Ed eccomi a fine riga Anche qui ci troviamo con Una maglia alta libera che dobbiamo saltare Poi la nostra maglia alta E le due catenelle Anche qui lavoriamo semplicemente Una maglia alta Sopra la maglia alta E ignoriamo Le due catenelle Scusate mi sono accorta Che non ho fatto il punto di incrocio Quindi lo vado a fare adesso Ecco L'ho proprio dimenticato Quindi questa maglia alta La salto E nella successiva Lavoro una maglia alta E ignoro le due catenelle Che abbiamo fatto per voltare Adesso non ci resta che ripetere Riga dopo riga La riga numero due Fino a quando raggiungiamo La misura necessaria Che ci serve Prima di fare le diminuzioni Quindi Sono questi i valori qua Perché questa è la misura Su tutta la larghezza Però noi stiamo facendo Solo metà del bollerino Per adesso Perché siamo partiti dal centro E stiamo lavorando per così E quindi Per la taglia SM Dobbiamo fermarci Dopo 27 centimetri Per la taglia LXL Dopo 30 centimetri E per la taglia XXL AXXL Dopo 33 centimetri Quindi lavorate Fino a quando avete raggiunto I centimetri necessari E poi ci rivediamo Per la parte delle diminuzioni Ed eccomi dopo aver raggiunto La misura necessaria Per la mia taglia E adesso possiamo iniziare A fare le diminuzioni Dobbiamo fare le diminuzioni Per tutte le taglie Per 20 centimetri Ho deciso che D'ora in poi Andiamo a lavorare A semplici maglie alte Così le diminuzioni Sono più facili Da realizzare Anche per i principianti Quindi vediamo come fare Facciamo due catenelle Voltiamo il lavoro E facciamo subito Una diminuzione A inizio riga Quindi filo sull'uncinetto Entriamo nella stessa maglia di base Come siamo abituati Prendiamo su il filo Avremo tre asole sull'uncinetto Passiamo attraverso due Poi mettiamo di nuovo il filo sull'uncinetto Entriamo nella prossima maglia alta Prendiamo su il filo Prendiamo nuovamente il filo E passiamo attraverso le prime due asole Poi abbiamo tre asole sull'uncinetto Prendiamo il filo E chiudiamo tutte e tre asole Insieme In questo modo abbiamo fatto La nostra diminuzione Sapete che le due catenelle All'inizio che facciamo Non li contiamo come maglia Ci servono solo per girare E quindi dopo ho lavorato Due maglie alte Chiuse insieme E in questo modo Ho fatto la mia diminuzione Adesso vado a lavorare Una riga Tutta a maglia alta Una maglia alta Sopra ogni punto Fino a quando Arrivo a fine riga Dove vi faccio vedere Come fare la diminuzione Ed eccomi A fine riga Anche qua Dobbiamo fare una diminuzione Quindi Lavoriamo a maglia alta Fin quando non ci rimangono Due punti liberi Che vedete qui Sapete le due catenelle Non li contiamo mai E qua abbiamo Le ultime due maglie alte Filo sull'uncinetto Entriamo nella prima maglia alta Prendiamo su il filo E passiamo attraverso due Filo sull'uncinetto Entriamo nella seconda maglia alta Prendiamo su il filo Abbiamo di nuovo Due asole sull'uncinetto Passiamo attraverso le prime due Poi abbiamo tre asole Sull'uncinetto Passiamo attraverso tutte e tre Le catenelle Le ignoriamo Abbiamo detto Quindi qua abbiamo già fatto La nostra diminuzione Facciamo due catenelle Voltiamo il lavoro E possiamo continuare A lavorare a righe Di maglia alta Facendo una diminuzione Sempre a inizio E sempre a fine riga Quindi adesso Per esempio Vi faccio vedere Ancora questa diminuzione Entro nella stessa maglia Di base Quindi ho fatto due catenelle Entro nella maglia La subito La prima che viene E lavoro Una maglia alta A metà Poi entro Nella seconda maglia E lavoro Un'altra maglia alta A metà E poi Li chiudo insieme E abbiamo fatto Già la nostra diminuzione Poi lavoro A maglia alta Per tutta la riga Fin quando Non mi rimangono Due maglie alte Libere E faccio la diminuzione Andate avanti così Fino a quando Il vostro pezzo Misura 20 cm Inoltre Se volete Di tanto in tanto Potete inserire Una riga Con il punto Incrociato Questo è un opzionale Che io Sicuramente Andrò a fare Quindi magari Ogni Sei righe Circa Magari Vado a fare Un punto Con il punto Decorativo Una riga Con il punto Decorativa Così Il lavoro Diventa Più prezioso Però Se non vi Sentite sicuri Non lo fate Lavorate Semplicemente Tutte le righe A maglie alte Ed eccomi Alla fine Della manica Quindi Da questa riga Fino a qui Il lavoro Misura 20 cm Ed è per tutte le taglie Come vedete Ho fatto 5 righe Sempre a maglie alte E poi Una riga Di decorazione Con il punto Incrociato Di nuovo 5 righe Una riga Con il punto Decorativo 5 righe Una riga Con il punto Decorativo E dopo Ho fatto ancora 3 righe Per raggiungere I 20 cm Ora Dobbiamo Fare L'altro lato Quindi abbiamo Fatto adesso Metà Del bollerino Adesso Dobbiamo Agganciarci Proprio qui Dove abbiamo Fatto Le catenelle Iniziali Quindi Quando abbiamo Finito la manica Dobbiamo tagliare Il filo Però Lasciate Una coda Abbastanza lunga Per poter Poi cucire Insieme La manica Quindi Ci agganciamo Con il nuovo Filo Nel punto Dove abbiamo Lavorato Le nostre Catenelle Ovviamente Per fare La seconda Metà Dobbiamo Andare A lavorare Lo stesso Numero Di righe Del punto Decorativo Come abbiamo Fatto Per la prima Metà Quindi Andate A contare Le righe Che avete Lavorato Nel mio Caso Sono 25 E dopo Di che Inizia La mia Manica Quindi Vado A fare Adesso Da questo Lato 25 Righe Con il punto Decorativo Come abbiamo Fatto Per il primo Lato Quindi Inizio La riga Lavorando 3 Catenelle E dopo Di che Devo andare Ovviamente Con prudenza A vedere Dove Devo Lavorare I miei Punti Perché Devono Essere Giustamente A specchio Quindi Lavoro Le mie 3 Maglie Alte Entrando Nella base Delle Catenelle 1,2 E 3 Ok E poi Lavoro Il mio Punto Incrociato Torno Nella prima Allungo Il punto E lavoro La maglia Alta Salto Una delle Catenelle E lavoro Il prossimo Gruppo Come vedete È davvero Facilissimo 1,2 E 3 E vado A fare Il mio Punto Incrociato E continuiamo Così Fino Alla Fine Della Riga E poi Ovviamente Andiamo A fare Tutte Le righe Necessarie E dopo Di che Facciamo La manica Quando Avete Terminato Questo Passo Vi faccio Vedere Come Chiudere Il Bolerino Adesso Possiamo Quindi Cucire Le maniche Quindi Prendiamo L'ago Da lana Lo inseriamo Nella codina Lunga Che abbiamo Lasciato A fine Manica E Ci Pieghiamo Il tessuto Così A metà E adesso Possiamo Andare Ad unire I lati Prendendo Sempre La parte Più esterna Della Maglia Quindi Prendete L'ago Inserite Da un lato E intanto Abbiamo Unito L'estremità Della Manica Adesso Andiamo A prendere Le parti Delle maglie Più esterne E andiamo A fare Una cucitura Avanti E indietro A zig zag Non c'è bisogno Che tirate Troppo forte Mentre fate Questa cucitura Se andate Belli morbidi Vi rimarrà Veramente Invisibile Questa cucitura Quindi come vedete Entro sempre Da una parte Ed esco Dall'altra Prendendo Sempre solo Un filo Più esterno Della maglia Allo stesso tempo Presto attenzione A far combaciare Le righe Quindi Ad andare Dritta Con la mia Cucitura E andiamo A cucire Insieme Questi due lati Fino a quando Arriviamo Alla parte centrale Quindi l'ultimo Punto di unione Sarà l'ultima riga Fatta di sole Maglie alte Fino a qui Ho già fatto Il primo lato Della prima manica E vedete Ho unito Fino a quando Non inizia La parte centrale Quindi la parte Dove abbiamo fatto Il punto Decorativo Senza diminuzioni Fino a quel punto Dobbiamo andare A cucire La nostra manica Fatelo Ovviamente Su entrambi i lati E poi ci vediamo Per la balza Il bordino Andiamo ora A realizzare Il bordino E partiamo Dal centro Sotto Prendendo Il tessuto Così In questa maniera Davanti a noi Quindi Aganciamo Il filo Proprio qua Al centro E facciamo Una maglia Bassissima Per chiuderci Intanto Poi lavoriamo Una maglia Bassa Nello stesso Punto Dopodiché Facciamo Tre catenelle Una Due E tre E lavoriamo Leggermente Distante Una maglia Bassa Quindi qua Dobbiamo andare Ad occhio Andiamo a fare Quindi Dei archetti Così Tre catenelle E una maglia Bassa Io entro Circa Ogni riga Per fare Una maglia Bassa Tre catenelle Una maglia Bassa E andiamo A fare Così Un giro Tutto Attorno L'unica cosa Alla quale Dovete prestare Attenzione In questo caso Per il primo giro Che dobbiamo Avere un numero Di archetti Pari Altrimenti Il disegno Dopo non ci viene fuori Quindi un numero Di archetti Pari Adesso Ho tre Vado avanti Mentre lavoro Conto i miei archetti E Alla fine del giro Devo prestare attenzione Che il numero Sia pari Alla fine della riga Chiudiamo Con una maglia Bassissima Nella prima Maglia bassa Che abbiamo fatto E poi Lavoriamo Altre tre Righe Di archetti E quindi Come facciamo Entriamo Con una maglia Bassissima Nel primo Archetto Per entrarci E poi Facciamo Una maglia Bassa Nello stesso Archetto E poi Tre catenelle E poi Entriamo Nel prossimo Archetto E facciamo Una maglia Bassa Tre catenelle E una maglia Bassa Nel prossimo Archetto E lavoriamo Così Altre Tre Righe O tre Giri E chiudiamo Sempre La fine Di ogni Giro Con una Maglia Bassissima Nella prima Maglia Bassa A questo Punto Lavoriamo Poi Il prossimo Giro Che è un po' Diverso Dalle Precedenti Quindi Lavoriamo Sempre Una maglia Bassissima Per entrare Nel primo Archetto Poi Lavoriamo Una maglia Bassa E facciamo E facciamo 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 E 8 8 Poi Entriamo Nel prossimo Archetto E facciamo Una maglia Bassa Una catenella E una maglia Bassa Nell'archetto Successivo E adesso Ripetiamo 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 E 8 Una maglia Bassa Nel prossimo Archetto Una catenella Una maglia Bassa Nel Archetto Successivo E ripetiamo Questo Per tutto Il giro Alla fine Del giro Ricordatevi Che dovete Fare Ancora Una catenella Perché avete Lavorato Una maglia Bassa Dopo Il gruppo Di 8 Catenelle Poi Una catenella Di separazione E poi Entrate Con una maglia Bassissima Nella prima Maglia Bassa Che abbiamo Lavorato Adesso Facciamo L'ultimo Giro Di questo Bordino E quindi Facciamo Una maglia Bassissima Per entrare Nel Archetto Di 8 Catenelle E poi Poi lavoriamo Nel seguente Modo Una maglia Bassa Quattro Catenelle Entriamo Nella prima Di queste Quattro Catenelle E lavoriamo Una maglia Alta E poi Lavoriamo Nell'archetto Di 8 Catenelle Una maglia Bassa E ripetiamo Quattro Catenelle Uno Due Tre Quattro Una maglia Alta Nella prima Di queste Quattro Catenelle E una Maglia Bassa Nell'archetto Di 8 Catenelle Di nuovo Quattro Catenelle Una maglia Alta Nella Prima Catenella E facciamo Una maglia Bassa Nell'archetto Di 8 Catenelle Quindi In questi Archetti Di 8 Catenelle Lavoriamo Questi Tre Punti A picot Praticamente Poi Invece Lavorate Una maglia Bassa Nello Spazio Di una Catenella E poi Nuovamente Agganciatevi Con una Maglia Bassa Nel Prossimo Archetto E lavorate Di nuovo I gruppi Di 4 Catenelle Una Maglia Alta Nella Prima Catenella Una Maglia Bassa E Ripetete Questo Per Tre Volte Per Ogni Archetto Di 8 Catenelle E Invece Nello Spazio Di una Catenella Lavorate Solo Una Maglia Bassa Ripetete Per tutto Il Maglia Bassa Che Avete Lavorato Per Questo Giro Per Le Maniche Dobbiamo Fare Lo Stesso Lavoro Quindi Però Faremo Meno Giri Farete Un Giro Una Maglia Bassa Tre Catenelle Una Maglia Bassa Ovviamente Qua Saltate Sempre Lasciate Un po' Di Spazio Quindi Saltate Una Maglia Quando Dovete Fare La Maglia Bassa Quindi Una Maglia Bassa Tre Catenelle Saltiamo La Prossima Maglia Alta E Lavoriamo Una Maglia Bassa Nella Successiva Un Giro Fatto Così Il Seguente Giro Facciamo Il Giro Di Una Maglia Bassa Otto Catenelle Una Maglia Bassa Una Catenella Una Maglia Bassa Quindi Quello Che Abbiamo Fatto Anche Nel Bordino Centrale Il Terzo Giro Facciamo Proprio Questo Giro Che Stiamo Lavorando Qua Adesso Quindi Una Maglia Bassa 4 Catenelle Una Maglia Alta E Così Via Quindi In Pratica Facciamo Lo Stesso Bordino Come Abbiamo Fatto Per La Parte Centrale Però Non Lavoriamo Qua Le Quattro Righe Di Archetti Di Tre Catenelle Ma Ne Facciamo Solo Uno Il Resto E Preciso Identico Ed Ecco Il Io Spero Che Questo Progetto Vi Sia Piaciuto Come Vedete E Molto Elegante Molto Bello Da Usare Sia Per Un' Occasione Di Un Matrimonio Che Per Una Serietà Elegante Con Un Punto Così Facile E Poi Il Bordino Ha Dato Magari Il Tocco Finale Con Questo Io Vi Saluto E Vi Dico Al Prossimo Tutorial Ci Vediamo Ciao Ciao